10 minuti cammino un po sul posto sciolte le braccia lati del corpo sollevo le ginocchia mentre cammino respiro con il naso all'aria entra l'addome si gonfia e spiro con il naso l'aria esce l'addome si sgonfia ombelico verso la colonna ok tre bei respiri inspiro fuori l'aria ancora inspiro fuori l'aria inspiro fuori l'aria ok sciolgo le spalle ruoto in avanti in alto indietro in basso cinque volte o più o meno come vi sentite movimento sciolto e fluido poi giro dall'altro verso via 2 3 4 5 appendo le spalle unisco le scapole dietro e sciolgo rilasso sciolgo appendo le spalle unisco le scapole dietro e sciolgo ok una mano avanti altezza della spalla una dietro altezza della spalla gambe aperte come le anche ombelico verso la colonna ondeggio in avanti e indietro sciolgo il movimento delle braccia continuo a respirare con il naso sempre l'ombelico immaginate un cubetto di ghiaccio appoggiato qua e via e via e via per una diecina di volte continuo il movimento e via e via ora ruoto davanti a me in un verso e nell'altro con un braccio e con l'altro via in un verso e nell'altro con un braccio e con l'altro ancora in un verso e nell'altro con un braccio e con l'altro poi con tutte e due insieme non trattengo il respiro continuare a sperare in modo naturale e vai e vai c'è il movimento delle braccia ok ancora qualche movimento e vai poi mano sulla spalla ruoto verso dietro il braccio arriva vicino all'orecchio se non riesco non importa se non riesco arrivare qui vado all'esterno e faccio un giro all'esterno non importa fate quello che riuscite a fare deve essere un movimento fluido e comodo giro dall'altra parte dalle 5 alle 10 ripetizioni ok l'altro braccio via se riesco sfioro l'orecchio se non importa vado verso l'esterno ok in un verso e nell'altro poi uno su uno giù e ruoto in tutto e due verso dietro ancora qualche movimento e poi cambio il giro delle braccia continuo a respirare con il naso e vai ombelico verso la colonna e vai ok sciolgo le braccia un braccio avanti mano dietro al gomito vado allungare questa parte della spalla da quattro a otto respiri in base al tempo che avete disposizione decidete voi ma almeno quattro respiri diaframmatici sono utili per sciogliere la spalla via l'altro braccio inspiro uno l'aria entra nel naso l'addome si gonfia e spiro inspiro due fuori l'aria inspiro tre fuori l'aria inspiro e poi sciolgo la posizione ok mani in questo modo ombelico verso la colonna a candelabro si dice inspiro spirando le unisco avanti cinque volte butto fuori l'aria quando chiudo inspiro spiro uno inspiro spiro 2 inspiro spiro 3 inspiro spiro 4 inspiro spiro 5 sciolgo posso ripetere questa sequenza di cinque ripetizioni per altre due volte poi dopo aggiungo inspiro e spiro unisco le mani sopra inspiro e spiro unisco le mani sopra cinque volte inspiro e spiro uno inspiro e spiro 2 inspiro e spiro 3 inspiro e spiro 3 inspiro e spiro 4 inspiro e spiro 5 spiro e rilasso posso ripetere la sequenza da qui in su per altre due volte unisco i movimenti inspiro e spiro e spiro 1 inspiro e spiro e spiro e spiro 2 inspiro e spiro e spiro 3 inspiro e spiro 4 spiro e spiro e spiro 5 e rilasso posso ripetere anche per questo la sequenza per altre due volte porto la mano dietro vado a prendere il colonna dietro e spiro 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 e E rilasso l'altro, prendo il polso e tiro verso me e avvicino quest'orecchio alla spalla, mantengo la posizione da 4 a 8, respiro il minimo e 4, inspiro, espiro 1, inspiro, espiro 2, inspiro, espiro 3, inspiro, espiro 4, inspiro, espiro 5, inspiro, espiro lascio, cammino sul posto, sciolgo le braccia ai lati del corpo e vado a fare qualcosa, ok? Ok? Vado, alzo le ginocchia e tocco con la mano opposta, memorizzate questo movimento, ok? Ok? E' il primo movimento che ci interessa, ok? Ora, mani a servitore, inspiro, espiro allungo e ritorno, su questo inspiro, espiro allungo e ritorno, ci metto un piegamento sulle gambe, ok? Ok? Memorizzate questo movimento, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, espiro, ok? Ok? Quindi abbiamo fatto questo movimento e questo movimento, ok? E ora aggiungiamo quest'altro movimento, vuoto, col busto a destra e a sinistra e allungo anche la gamba opposta, vado sulla punta. Quindi abbiamo fatto questo movimento, questo movimento, questo movimento e ci aggiungiamo come ultimo, apro le braccia, ok? Ok? E vado giù da una parte, giù dall'altra, inspiro, espirando, tocco, inspiro, espirando, tocco. Quindi, uno, due, tre, quattro, ok? Ok? Facciamo cinque ripetizioni, via, uno, due, tre, quattro, cinque. Ispiro, uno, due, tre, quattro, cinque. Ispiro, uno, due, tre, quattro, cinque. Ora facciamo uno di tutti insieme. Quindi, uno, due, tre, quattro, cinque. 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 Ok? Per scioglierci completamente, prima di continuare a fare qualsiasi cosa dobbiamo continuare a fare dopo, utilizziamo questo. metodo. Alla, cinque. 3 inspiro e spiro 4 inspiro e spiro 5 inspiro e spiro 6 inspiro e spiro 7 inspiro spiro 8 e stop prendi un bel bicchiere d'acqua e poi continua a fare quello che devi fare ti auguro un buon proseguimento e buona vita never give up ciao da raffaela un beso